mister valifuoco allenatore del real granella una gran prestazione maiuscola oggi contro una grande squadra che punta sicuramente a livelli altissimi due legni tanti cospecati tante parate di l'angellotti alla fine però arrivato il pareggio strameritato sì voglio fare complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita non è solo questa vengono da tre partite veramente belle hanno dato tutto sono riusciti a vincere che la lazio hanno perso con lo swam lab meritatamente hanno giocato bene abbiamo vinto contro il caffè spartaco e oggi un pareggio con anche una grande squadra quindi abbiamo fatto quattro partite e quattro prestazioni belle e faccio i complimenti agli avversari che sono forti ma anche ai miei ragazzi perché fino all'ultimo ci hanno creduto nel tuo numero mister siete il quarto migliore attacco del campionato rispetto all'anno scorso sembrate proprio due squadre differenti però raccogliete sempre poco rispetto a quello che create come mai oggi c'era qualche qualche assenza che per noi è importante fa parte di questo gruppo già dall'altro anno e si sente però abbiamo creato tempo è un problema che ci abbiamo da sempre facciamo costruiamo tante palle golle raccogliamo poco la squadra è giovane tutti 2002 2003 gente giovane quindi sono contento perché comunque la prestazione è sempre buona quindi continuiamo così speriamo di fare bene settimana prossima comincia la coppa di lega pensi che oltre al piazzamento al pre off di cui sempre ci hai detto potresti portare a casa anche un trofeo quest'anno volendo guarda giochiamo la coppa di lega è vero giochiamo tutto il cosmos se non sbaglio ho visto il calendario oggi è una competizione che vogliamo andare avanti ho detto ai ragazzi no perché fanno una categoria credo la due è da sottovalutare anzi sono le peggior partite perché loro vogliono fare bene contro una squadra serie a magari tu pacchi di presunzione e perdi quindi noi puntiamo a giocarci dalla partita quindi fino all'ultimo fino all'ultima giornata coppa e campionato grazie a tutti